video l'orologio suonava e mi dava ecco tempo stabile ovvero il sole oggi sarà sarà il sole vedi come la freccia va in su tira in su vuol dire bel tempo pressione salita milibar vediamo se è vero aspetta ecco 1020 milibar come all'indiano forse un po esagerato perché sono dato sulle impostazioni manuali e ho alzato un po la tendenza di milibar comunque tempo e miglioramento stato fuori ho visto che cielo è pieno di stelline aria freschina però metto un gradi 8 perfetto no wow video vediamo questo termometro 21 25 o 24 io credo di più all'orologio digitale ora come tira sulla freccia del tempo in arrivo sole spiace rock'n'roll wow milibar 1020 tempo tempo stabile soleggiato